Benvenuti in questo nuovo video, siamo al terzo video sponsorizzazioni ormai e in questo video ho estratto altri 3 vincitori per partecipare vi basterà lasciare un commento qui sotto e iscrivervi al canale un orale più semplice andiamo quindi subito a vedere il primo canale ecco qui il canale di Danny che è un canale abbastanza giovane come potete vedere è un canale molto vario in particolare vi porta l'attenzione di un video quello delle intro perché lui fa anche dell'intro cosa molto importante che magari molti di voi che stanno guardando questo video interesserà e vi consiglio anche di vedere l'ultimo video di skill che è davvero molto molto carino e ben editato il secondo canale è quello di Justice Screech che è molto divertente soprattutto lei che è la protagonista di questo canale che porta principalmente vlog, challenge e come dice nel video di presentazione magari in futuro anche qualche gameplay ma appunto al centro del canale c'è il suo personaggio e la sua ironia vi consiglio di andare a vederlo porta all'incirca un video a cadenza settimanale e trovate tutti i link per raggiungerlo l'ultimo canale di oggi è quello di QTV che è un canale appunto come descritto dal nome di più persone in cui fanno vari tipi di video e in particolare fanno vlog anche se possiamo trovare qualche gameplay come per esempio quello di Far Cry vi consiglio quel video sul contest per appunto l'Oculus tra virgolette e due video che ho evidenziato con il cursore del mouse che possono esservi molto utili sempre per le vostre grafiche e per quanto riguarda il canale e quindi unito a quell'altro che abbiamo visto prima dell'intro davvero davvero un grande upgrade per il vostro canale quindi per questo episodio è tutto io vi ringrazio per il supporto per il sostegno vi ricordo che per partecipare vi basterà lasciare qui sotto un commento con scritto che partecipate e iscrivervi al canale quindi per questo episodio è tutto vi ringrazio ancora e alla prossima grazie